Sant'Antioco, commemorati migranti deceduti mare, alla toccante cerimonia tenutasi sabato nel comune lagunare hanno partecipato i rappresentanti della regione, le autorità locali e i superstiti della tragedia. Iglesias, nuovo arresto per droga, stavolta finire imbrigliato nelle maglie dei carabinieri è stato un 46enne pluripregiudicato del posto trovato in possesso di oltre 46 grammi di sostanza stupefacente. Carbonia, stalker in manete, l'uomo nonostante fosse già gli arresti domiciliari per aver perseguitato la ex compagna è evaso e ha tentato di bruciare la macchina, ora è stato nuovamente arrestato e accompagnato in carcere. Calcio, campionato di promozione, vincono Carboni a Montepone Iglesias, perde il carroforte, ormai avviato verso una quasi certa retrocessione. Buon lunedì 28 gennaio a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Apriamo la prima parte con la commemorazione tenutasi sabato scorso a Sant'Antioco per ricordare le vittime del naufragio occorso il 16 novembre 2018 in mare di fronte all'isola del Toro. Vediamo i dettagli in questo servizio. Sabato scorso la regione Sardegna in collaborazione con il comune di Sant'Antioco, il corpo forestale, la Caritas, ha commemorato le vittime del naufragio occorso lo scorso 16 novembre nello specchio di mare antistante all'isola del Toro nel quale morirono due giovani algerini e almeno altri otto furono dichiarati dispersi. La cerimonia si è articolata alla presenza dell'assessore agli affari regionali Filippo Spanu e due superstiti della tragedia con la commovente riposizione di una corona di fiori in mare a largo di Sant'Antioco nella zona del naufragio e si è conclusa con un'assemblea pubblica nella sala convegni della Polizia Municipale alla presenza delle autorità locali, di cittadini e di svariati migranti, ma anche di Liman, Golan, Chibria e del direttore regionale della Caritas diocesana Don Marco Rai. Secondo quanto dichiarato per l'occasione dall'assessore Spanu, commemorare in multimare e migrate la ricerca di una vita migliore è un gesto di umanità per mantenere viva la memoria su una tragedia dolorosa e su tutte quelle già avvenute in passato nel Mediterraneo. Adesso cambiamo argomento e parliamo di cronaca. Nella serata di ieri i carabinieri di Iglesias hanno arrestato un 46enne per possesso di sostanze stupefacenti, tra le quali 53 grammi di hashish e mezzo grammo di marijuana. Vediamo i dettagli nel servizio. Ieri sera AM, 46enne di Iglesias, pluripregiudicato, è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti e nello specifico 53 grammi di hashish e mezzo grammo di marijuana. L'uomo è stato fermato dai carabinieri all'interno della stazione ferroviaria subito dopo esser sceso da un treno con atteggiamenti che hanno fatto insospettire i militari in considerazione anche dei suoi precedenti specifici. Dopo il fermo è stato perquisito e a quel punto gli sono stati rinvenuti ad osso 46 grammi di hashish occultati negli slip e altri 4 pezzi della stessa sostanza da 7 grammi e oltre mezzo grammo di marijuana nascosti nel calzino. Nella successiva perquisizione nella sua abitazione sono stati sequestrati un bilancino elettronico e un coltello con la lama imbrattata di residui dello stesso tipo di sostanza stupefacente sequestratagli in precedenza. Nella giornata di oggi verrà processato per direttissima. Parliamo ancora di cronaca. Lo scorso 11 gennaio era stato già denunciato perati persecutori verso la sua ex compagna ed evasione dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto come misura detentiva. Nei giorni scorsi AS 66N pensionato di Carbonia è stato nuovamente arrestato per essersi ancora una volta arrecato a casa della ex del suo attuale convivente e nonostante la sua condizione detentiva aver tentato di incendiare la loro auto parcheggiata nel cortile di casa. Alla luce del nuovo episodio in considerazione della testimonianza della donna la procura della Repubblica di Cagliari ha provveduto a emettere un'ordinanza di custodia cautelare che ha portato all'arresto dell'uomo e al suo trasferimento in carcere. Bentonati studio apriamo la seconda parte nuovamente con la cronaca e con l'arresto è venuto venerdì scorso a opera dei carabinieri della compagnia di Carbonia di un giovane 34enne risiedente in città per possesso illegale di un'arma clandestina e di diverse munizioni. SF, le iniziali dell'uomo, è stato trovato in possesso di un'arma di fabbricazione artigianale ovvero una pistola ad aria compressa modificata e resa idonea allo sparo di proiettili veri. Il 34enne, già noto alle forze dell'ordine e per altri precedenti penali, è stato arrestato e condotto nel carcere di Uta e la sua arma sequestrata. Ora cambiamo radicalmente argomento e parliamo del nuovo bollettino emanato dalla protezione civile della regione Sardegna che nella giornata di ieri ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valido fino alle 23 di questa sera, in particolare a causa dei forti venti provenienti dai quadranti nord-occidentali. L'ente di protezione invita i cittadini a evitare ogni situazione che possa mettere a repentaglio la propria incolumità e quella di terzi, guidando piano e portando cautela in tutte le altre attività quotidiane della giornata. Chiudiamo la seconda parte del nostro TG con la cultura. Giovedì prossimo si terrà iglesias alle ore 18 presso la biblioteca comunale Niccolò Canelles la presentazione del nuovo libro di Valeria Puzzo dal nome L'impero dei popoli del mare. Il testo rappresenta un altro tassello sul mosaico che ricostruisce la genesi della storia moderna e la testimonianza dell'alto grado di civilizzazione di coloro i quali oggi chiamiamo Sherdan. Un libro che risponde a tante curiosità cercando di infrangere quel velo di mistero e tabù che avvolge la nostra storia. Nel testo vengono analizzate le vicende che hanno caratterizzato la politica commerciale mediterranea e le dinamiche politiche che ne conseguirono. Un volume ricco di riferimenti a evidenze archeologiche, siti e testimonianze per lo più poco conosciute, utile alla comprensione di un fenomeno assai complesso e che testimonia le capacità degli Sherdan e il loro alto grado di civilizzazione. Ben ritrovati in studio, apriamo la terza parte come di consueto con gli eventi in programma in settimana. Altavoce è il nome del progetto culturale realizzato e promosso dall'associazione culturale Argonautilus per aiutare gli aspiranti artisti a mettere da parte la timidezza e partecipare attivamente alla fiera del libro di Iglesias dando l'opportunità di esibirsi su di un palco nella lettura di un brano di fronte al pubblico. A tal proposito, per migliorare le attitudini in materia, a cominciare da mercoledì 30, sarà attivo e aperto a chiunque fosse interessato un ciclo di tre incontri di lettura tenuto da professionisti che impartiranno le linee guida per la gestione delle performance. L'appuntamento è per mercoledì 30 gennaio alle ore 19 presso la sede di Argonautilus in piazza San Francesco a Iglesias. Chiudiamo il nostro TG col calcio e in particolare con i risultati della 19esima giornata del campionato di promozione. Vincono meritatamente il Carboni e la Montepone Iglesias, perde malamente il carroforte, sempre più inchiodato in fondo alla classifica. Vediamo i dettagli del servizio. Grande risultato per il Carboni a calcio nella 19esima giornata del campionato di promozione. La compagine del mister Fabio Piras ha letteralmente spugnato il campo del Villa Massargia aggiudicandosi il derby grazie a un gol del talentuoso Giacomo Sanna che al 25esimo della ripresa ha sbloccato il risultato. Grazie a questa vittoria il Carboni a calcio si porta a sette lunghezze dalla capolista San Marco Assemini che ieri ha pareggiato per 0-0 col Villa Sor. Vittoria anche per la Montepone Iglesias con il Selarjus per 1-0 grazie alla rete di Manuel Piras e grave sconfitta invece per il Carloforte che ha perso per 5 gol a 0 contro l'Idolo. E se la Montepone consolida l'undicesimo posto in classifica il Carloforte continua a permanere nel baratro dell'ultimo posto con un orizzonte sempre più condannato alla retrocessione in prima categoria. Nella prossima giornata di promozione, la ventesima, le squadre del Sulci saranno impegnate rispettivamente la Montepone in casa con il Sant'Elena Quartu e il Carloforte in trasferta allo stadio Zuburi in un nuovo derby col Carbonia. Il nostro Tg è concluso, grazie di averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.